musica a pace si fanno ah con il ferro con il ferro quindi prendiamo del forro ma questo non è forro cioè questo è forro ma è raffinato quindi è il ferro molto bene e prendiamo qualche stack di redstone andiamo di qua yep e e la mettiamo dentro la blue electrical fornei saloi fornei saloi si sono pieno lol parapapapapa vieni alla torre allora 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 intanto andiamo di qua poi 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 must fabricator farm EU perfetto e ricarichiamo la nostra gravity sweet Dimmi quando ci sei Ti ci porto Molto 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 pene Molto pene Molto pene Ok Allora ritorniamo lì Guardate come non si vede il mondo Dov'è? Eccola qua Non ho la gravide Funzionerà con la porta a gamma Qua Ho qualcosa con cui chiudere Ho qualcosa con cui chiudere Sì Eccole qua Vediamo un po' se funziona con la gravity No Eeeh Con la gravity No Asp Ok Allora andiamo a prendere la gravity per Luke Eeeh Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Dove? Dove è la gravity? Datemi la gravity Non la trovo Dannazione E vabbè A meno che Sia qui No E vabbè Facciamo così Te lo rompo E metto Nel recinto Non trovo La gravity E chiudiamo di qua Che facciamo spazio E dai Facciamo scemare No 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 Smettetela 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 Ok Mettiamo una cosa a riparare Diciamo Il coso che se si rompe È la fine della morte Perfetto Ho preso tutto Sì Andiamo dal buon Luke Teletrasporto Dimora altrui Eeeh Casa di Luke Qualche alberello Per il tuo giardino Luke Facciamo così Qua giù E qua giù Oh Ma Va bene qua Vai Moltiplicatevi Moltiplicatevi Ho detto Beh Perché è così poco Esporano Non c'è spazio Non c'è spazio Nell'inventario Dai Dovete Dovete Sponare Ah Mi state Facendo fare Davvero Una brutta figura Aio Che cosa è successo Le mucche Si ribellano Aio Mortacci Ho da mangiare Mangerò Uno schifo Ok Allora Facciamo così Facciamo così 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 E così Dopo del tè Dopo del tè Dopo del tè Voliamo Mettiamola qua Dovrebbero sponare Lol Prego Ok Abbiamo Fatto la nostra Buona azione quotidiana E Via A casotta Dunque 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 Quartier 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 generale Ah ragazzi Mangiamo però Accidenti Accidenti Ok Mi sono assolutamente Dimenticato Cosa stessimo Facendo Cosa stessimo Facendo Ah stavamo Facendo i lingotti Quindi il buon Luke Ci ha evitato di aspettare Distraendoci un poco Andiamo a vedere Se sono fandi Sono fandi Ragazzotti 61 Accidenti Accidenti Ok Lo mettiamo qui Lo circondiamo Da La cobblestone Cover E ne facciamo Un piccolo Boato Vabbè Tanto ci serviranno Per gli impianti Sti cosi Rimettiamo il lingottone Rosso qua Allora Fatemi pensare Abbiamo questo Abbiamo quest'altro Ah ecco cosa ci serve Ci serve Un nor gate Che io non credo Da avere Dobbiamo rifarlo Che prole Che pallissime E vabbè Ragazzi Quindi o l'or O l'or O il nor È uguale Gate Allora Qui c'è il nor gate Si fa con Il wafer Quindi ce ne serve Intanto vediamo Uno di questi Una node Perfetto Ce l'abbiamo Che caulo Poi ci servono Tre di questi Quindi in realtà Altri otto Vediamo un po' Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Nove perché di solito Conto malerrimo Li mettiamo qui dentro Oh my god Li mettiamo qui dentro Oh my god No vabbè Non serviva Facciamo così Per ricordarci giusto la forma Prendiamo della radstone E No Ragazzotti no Non vi sbagliate Non fatelo voi a casa La facciamo diventare La facciamo diventare così Molto bene Molto bene E mettiamo questa forma Dopo del Mettiamo questo qui sopra Quattro Bianchi E Quello al centro Vediamo cosa vuole Ah vuole una torcia di radstone Sul Chappot Quindi ne prendiamo una E Li ho messi tutti qua dentro ovviamente Perché sono un nabbo Facciamo così Hop E così Hoppela La mettiamo qui E abbiamo fatto un nord gate Ci dovremmo Ci dovremmo essere Non vorrei dire una cassiata Ma ci dovremmo essere Andiamo a verificare L'esattezza delle nostre affermazioni Ok Va bene Allora Innanzitutto Dobbiamo rimettere Il tutte cose Scusate Scusate ma sono un po' raffreddato Penso si sia sentito E Però ci mettiamo una lava Altrimenti Qui Le cose ci sfuggono di mano Di mana Anzi Perfetto Allora noi scendiamo qua sotto Lo andiamo a far congiungere A questo timer qua Vediamo dove arriva il tick Il tick Ok Arriva Arriva qua Abbiamo un pezzo di stone Si Adesso Invertiamo Il segnale Quindi quando non tick Deve essere Acceso Il nord cosa fa? È una funzione logica Molto molto Elementare Che nega L'affermazione precedente Quindi falso Diventa vero E vero Diventa falso Ora Quando il timer sta girando L'affermazione è falsa Quindi se mettiamo un nor Falso Diventa vero Quando il timer tick Che l'affermazione è vera Cioè acceso Il nord ci darà falso Adesso Vi spiego nella pratica Perché Magari è abbastanza semplice Però Voglio farvelo vedere Guardate È sempre acceso Tranne quando tick Vedete? Perfetto Allora noi mettiamo qui Un altro pezzettozzo Ci mettiamo La wire Eccola qua E poi andiamo tutto di Cobblestone Chackled wire Tata Scendiamo 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 E abbiamo toppato Un po' le misure Ma va bene lo stesso Chissene Adesso non funziona Perché c'è Ovviamente La nostra lava Eccola qua Leviamo la lava Andiamo a vedere A vedere se funziona Oh Si spegne Ma non il tempo Diciamo Ideale Per far spawnare Almeno Quindi è troppo veloce Il timer È troppo veloce Come possiamo fare Ci potrebbe servire Un repeater Andiamo a prendere Un repeater Io ogni volta Mi dimentico Di avere La portal gun Mucca dove vai? Esca dal mio giardino Immediatamente Allora 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 Potrei metterlo qui Allora Allora Un repeater Sono sicuro Di averlo No Non ne volevo Prendere 6 Sorry Ne prendiamo 5 E vediamo Come la va Vediamo Come la va Però il repeater Se non sbaglio È quello vanilla Quindi non si può mettere Per verticale Oh Che palle Che palline Dobbiamo fare Repeater Quello della Della RP2 Vediamo un po' Se è abbastanza semplice Non mi va Di farlo Non mi va 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 Che palle Facciamolo 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 Anche perché è un repeater È per sempre Spengiamo sto motore Guardate quanta benza Sprego Ok Opera No Di qua Allora Allora Ci serve Questo Ce ne da 3 Che sono le cose Che piacciono a me Giusto Ok Ce ne serviva Soltanto uno Ma vabbè Poi ci leviamo Questo qui Dalle swallere E Ce ne facciamo Uno Due Tre Se non sbaglio Perfetto Dopo del te Dopo del te Ci serve lo stone Catode Due stone Catode Quindi Leviamo questo E mettiamo Perfetto Allora Due stone Catode Non mi ricordo Uno stone Anode Due di questi qui E il resto È assolutamente Noia Abbiamo fatto Un repeater RP2 Attenzione Spieghiamo un po' Di teoria Va Questo Oltre a collegarsi A tutti gli altri Dell'RP2 E questo no Ovviamente Ha 10 switch Ok Questo ne ha 4 Voilà Comunque 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 Non è una Non è una gran differenza Ma ovviamente È più performante Io ovviamente Però faccio il portale E poi non lo prendo Oh Che ricogliorito Ok Voilà No 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 Veramente Ok C'hai ragione Ok Eccoci qui Dunque Dove lo facciamo Dove lo facciamo Dove lo facciamo Lo facciamo Necessario Perché mi dovete Scassare la minchia Perché Ma lasciami in pace Ma vate Perché tu sei senza testa Lo chiameremo Romulo senza testa Mori Eh Che figo Ma che figata Beh bellissimo Così Adesso sarei un cry Per spacco tutto Io avevo delle torce Per il futuro Vorrei usarle Oh ma anche questo Prendiamo la vagina Voilà Voilà E ne mettiamo Quasi quasi Ne mettiamo Ne mettiamo Ne mettiamo Una qui Non fanno molta luce Però Mmm No No Fanno proprio una chiavica di luce Eh vabbè Ta 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 Piton Guardate i mostri Incredibile Quando i mostri ci sono In questa zona È davvero incredibile Block Breakup Parapapa No quella era Retriever Parapapapa Vabbè abbiamo Spammato un po' Di cosette Effettivamente Una di quelle Magari Tipo la leviamo da qua Accettiamo una torcia Una di quelle Una di quelle lì La mettiamo Qua sopra Mmm Non me la fa mettere Perché non me la fai mettere? Eh Ah È vero È vero È vero Oh oh Carina però come idea Tip 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 Comunque Adesso siamo liberi da cacacacchi? No Non siamo evidentemente liberi Non possiamo liberarci Se per favore Andate a professare la vostra religione Da qualche altra parte Grazie Allora Ok perfetto Possiamo fare così Ci è caduto ovviamente C'è caduto? No Perfetto Grande Prendiamo il nostro cacciavaide Ah Stanno spawnando le bocche Lol Prendiamo il nostro cacciavaide E facciamo così Ovviamente Lo devo girare all'altra parte Perfetto Poi il nostro repeater Vedete che si collega Si collega però Deve andare al contrario Ehi Spento Acceso Rimane un po' troppo acceso No scusate Non volevo farlo Lo rifaccio Allora mettiamo qualche tic di meno Vediamo un po' Acceso Lo spento è troppo veloce Acceso Spento Acceso Dovrebbe andare Dovrebbe andare Mamma mau Vabbè non stanno Non stanno pregiudicando qualcosa Andiamo qui Rompiamo di qua Grazie Facciamo Quello che abbiamo fatto Prima lo facciamo di qui Perché purtroppo non si collega Perché purtroppo non si collega È un po' brutto a vedersi A vedersi Però Chi se ne frega Ragazzotti Prima la sostanza Poi se c'è tempo La forma Allora Vediamo un po' se ce la fa Ancora no Ancora no Qui c'è un ragno Porterà guadagno Ma chi se ne frega Oh Perfetto E adesso stanno ferme Dangerous Decisamente troppo veloce Troppo 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 veloce Ragazzotto Dove stai andando Vieni qua No 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 Aspettetela dai Lasciatemi in pace Ok Perché dannazione L'ho fatto così basso Allora Riflettiamo 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 Troppo veloce Quello lì diventa impossibile Ma troppo lento Questi qui Non bruciano Facciamo dei tentativi D'errori Vediamo un po' Prendiamo la vagina Dove è la vagina? Vabbè Ok Si spenge Passa qualche secondo Quelli si incastrano Stronze Acceso Cascano dentro Beh Adesso stanno prendendo fuoco Immagino Si Perfetto Moriranno Fantastico Fantastico Fantasticissimo E tu che Cassiopea Fai là Cioè io non lo so Queste bucche non collaborano Ragazzi Allora Intanto qui c'è un ragno Che desidera La propria fine Esistenza Ciao Ciao Addio Due di queste Le prendiamo Le mettiamo Qui Oh Santa pace Levati E ok E qua Dovrò mettere Un blocco Di questi qui E brutto Ma Ma però Perfetto Va la grande Povero mucche Davvero È una finaccia schifosa Oh Oh Tre sacche di libri Allora 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 Interessante Davvero Davvero Interessante Queste bistocche Dobbiamo mandarle Da un'altra parte Ora 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 Però Voglio vedere Ah no No Voglio assolutamente Potete fare Un impianto Che disinserisca Questo Perché magari Quando esco dal server Non mi serve Non mi serve Che esco dal server Vediamo questa Lì è pieno di Kriper Kriper Knight Ta 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 Kripa Vabbè Eh Basta Ok 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 Intanto Mettiamo ricaricando Questa qua E la porta Dov'è E la porta Dov'è Dovrò Identificarla In qualche maniera Se mi lascia Pasquale Se mi lascia Pasquale Se mi lascia Pasquale Questi sono pieni come uova Chissà se si può fare qualcosa che quando è pieno smetti di Mmm Non credo perché servirebbero gli energy conductive pipe normali Non penso che qui si possono mettere i gate A meno che Quelli della thermal non siano dei geni Eh no Non sono così geniali Vabbè Li perdoniamo per questa volta Intanto che la ciccia si carica Andiamo a fare Andiamo a fare i Wireless Eccoci Eccoci qua Allora Dobbiamo fare un wireless Receiver Che si fa A così E un wireless Remote Che si fa Con sta cagata Dobbiamo fare quindi entrambi Questi palletti qua I transvator Transvator L'Ossidian Seek Lo ce la facciamo Tranquillamente E questa qui Ragazzi Oddio Mi è venuto un dubbio Fatevi vedere quanto è che registro Perché magari interrompiamo qua Un secondo soltanto Accidenti Pensavo di aver registrato di più Possiamo 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 Andare avanti Quindi 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 Facciamo sti cavoli di stick Eccoli qua Dopo del tè Dopo del tè Andiamo a fare Che cos'era quello Che cos'era questo Era un botton Come si fa il botton Interessante Molto interessante Dov'è la stone Eccola qua Facciamo anche un botton Grazie Vorrei semplicemente Prendere tutta sta robaccia E buttarla Non con questa Ma con questa E buttarla di qua Ragazzi Mi è sparita la gravity E la Kevin's bag Dove cazzo sono finite Vabbè Questa non ci interessa No questa ci interessa Non ci interessa Boh non mi ricordo Ah Molto bene Molto bene Queste le buttiamo via Non ci interessa Nel cubo di dirt Si può anche andare a far friggere Queste magari ce le teniamo Queste via Va bene Abbiamo fatto spazio Nell'inventario Abbiamo il bottone E abbiamo Eh non ci credo Perché non funziona? Ah Perché sta ciucciando Come una dannata La stronza Lol Quanto ciuccia sta gravity Ragazzi Quanto cacchio ciuccia Allora Eh Ah gli stick Eccoli qua Scusatemi Mi sono perso Andiamo a prendere Della Anzi due Ender Ma facciamone un po' di più Eh Delle 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 Dimmi quando Tu verrai Dimmi quando 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 Tadada Facciamo stander Pearl Pearl Che si fanno Così Molto semplice Un due Tre Stella Un due Tre Stella E Un due Tre Stella Ne facciamo Precisamente due Ne mettiamo sugli stock Ne facciamo Precisamente due Uno lo mettiamo sul bottone E ci viene fuori Sto telecomandino qui Del super ness Benissimo l'altro invece dobbiamo metterlo sotto un bel piatto fatto con la stone strana che la stone diventi quella cosa lì così levigata però vabbè non stiamo a fare troppo i puntigliosi io ogni volta sbaglio stone abbiamo fatto la conca d'or perfetto però abbiamo sbagliato anche il posto dove andando la mettiamo qui e dov'è la pompa d'or? la pompa d'or l'ho lasciata qua mamma mia che ricoglionito va bene va bene abbiamo fatto sto dish il piattino poi ci mette un altro stick che non fa mai male se mi lascia pasquale e due di questi wire è un wafer vediamo un po' se no accidenti però dovrebbero uscire esattamente quindi così e un wafer normale abbiamo svoltato abbiamo svoltato un due e tre perfetto adesso ah vabbè io do per scontato che voi la conosciate ma sono sicuro che qualcuno non conosce questa modda quindi la facciamo in mantenente allora come farvela vedere la facciamo così ah questo pisellozzo qua cliccandoci col tasto destro e avanzate ha delle frequenze ok? tiene delle frequenze noi qui possiamo scrivere impianto mucche perfetto e gli diamo una un valore un valore è come la frequenza radio abbiamo un valore mille e uno no mille non vuole mille uno set mille uno però non gli ho dato perché non mi ha preso qualcosa impianto ah e gli devo dare set name impianto mucche set name perfetto adesso questo qui vedete che ha preso il mille uno oh si muove che carino adesso se io clicco il tasto destro su di questo non succede assolutamente niente ma se io premo shift ecco posso selezionare impianto mucche che mi va di qua mi prende la frequenza adesso guardate tasto destro tadan tadan un bel tick possiamo farlo fino a 64 quadretti di distanza molto molto ottimo andiamo avanti con lo stopping dell'impianto anche se ora che ci penso noi potremmo andare a ah no sta funzionando da sola è in automatico no? oddio ah non mettete mai la portal gun ma vattene un po' sta funzionando grandi vediamo un po' come va come la prosegue ovviamente io ho preso tutti i lati sbagliati dell'impianto oppela mmm abemus carnem lol che cazzo ci faccio? mi devo fare un tier più piccolino mi sa eh però non posso attivarlo e spegnerlo quando voglio vabbè qui devo chiudere ogni volta lo dico lì c'è una portal gun ogni volta mi dimentico di prenderla ogni volta che parlo di te bene 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 cosa ci serve di altro di altro di altro ve lo spiego subito ci serve un latc che è questo cosino qui purtroppo dobbiamo farlo che cacchio vi devo dire anche a me sta sulle balle il fatto che l'rp2 le cose interessanti fanno così schaifo schaifo questo è un rl e questo è un toggle lak non so assolutamente come si pronunci però mi pare di avere oh una lava una lava allora facciamo iniziamo a fando 4 neutre 2 di queste e 2 con le torce non ho le torce ma possiamo assolutamente provvedere voilà dov'è 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 è di qua grazie mille ok 2 4 neutre 2 di queste e una leva oh come funziona sto cosino è molto molto carino è abbastanza semplice in realtà non devi stare a questo lato stronza devi andare non devi vabbè prendiamo il cacciavite va ok allora come vedete di qua è acceso e di qua è spento se io do un segnale redstone è come se girasse la leva vedete tuc 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 cosa ci porta a pensare questo no non a distruggere il pavimento mi dispiace non era questo che volevo farvi pensare che il timer effettivamente che è quello che fa funzionare tutto l'imbiandozzo funziona a segnale di redstone e se glielo diamo continuo si spegne però mi trovo davanti a un dilemma esistenziale eh si eh si eh si eh si eh si come faccio è interessante vi spiego se io blocco questo impianto blocco anche questo qua sotto ma non mi va di mettere tre timer è dura la vita del campione ma 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 eh prega perché comunque vediamo un po' che possiamo fando come possiamo bloccare il tutte cose senza dare fastidio a alcuno eh no lo possiamo fare soltanto così l'ho preso dove è finito eh posso volare ok qui riempiamo questo rimettiamo il resto un tube purtroppo e sbagliamo completamente la mira ok ci riproviamo perfetto oh adesso si vabbè adesso questi qui scattano un po' eh ma 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 non vorrei che creasse qualche problema ma non credo non credo non credo quindi possiamo disattivare questi perfetto adesso possiamo fare questo impiantozzo lo facciamo qui qua qua e qua benissimo allora qui c'è il timer voi sapete perfettamente che il timer se riceve un impulso il resto è un continuo già l'ho detta questa frase lo so sono vecchio e ripetitivo eh giriamo il time lack no non si chiama time lack si chiama toggle lack guardate è tutto spento è tutto spento un par dei zufoli ok perfetto adesso è spento giusto 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 ok si 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 è giusto perché è negato certo che qualche mucca mi rimarrà qua dentro e vabbè non saranno mai milioni di miliardi sono dieci su l'orto di Luke ce n'ha di più perfetto perfetto e noi quando vogliamo accenderlo ci basta mettere il wireless di qua girarlo verso il time no 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 ho sbagliato ho sbagliato metterlo qui girarlo verso il nostro lack toggle lack cliccarci metterlo su impianto mucca vediamo un po' sta funziando perché non funzi si funzia 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 vediamo vediamo attenzione battaglione non capisco perché non sponino ah forse è che ci stanno ste bastarde vai vai twinkie mmm tutto ciò è davvero davvero strano prima funzionava ma il fuoco di vampa si ehi tu dovresti funzionare cassiopea non farmi fare brutta figura acceso acceso spento 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 ma ma che cosa è cambiato da prima scusatemi niente va tutto mini vediamo un po' stiamo stiamo osservando mucche mucche stop mucche ma a me sembrano ma strano strano davvero andiamo vedendo no vedete si accumulano non ci vuole così non va bene così però così non vanno veri 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 dovrebbe averlo fatto una volta sola ok si vabbè adesso questo è un caso poi cascano da sole vabbè si ok la situazione si è quasi ripristinata non capisco perché però vabbè allora noi mettiamo a sto punto queste lampade oh mio dio che cosa ho premuto ma ma io non voglio salire per sempre ok boh mettiamo queste lampade qua che ci fanno capire se l'impianto sta funzionando o meno quindi noi possiamo anche andare lontano spengere e adesso dovremo non vedere più mucche comparire all'orizzonte vediamo un po' facciamo passare 6 secondi very good perfetto adesso accendiamo ehi oh funziona 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 molto 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 pene molto pene possiamo dire di aver concluso per oggi il nostro impianto anche se a dire il vero ci serve un'altra cosa lo so che sto perdendo 3 puntate per un impianto però sono comunque cose logiche ragazzi non le trovo molto interessanti da fare anche perché non l'ho mai fatta io non ho mai fatto quasi niente di tutto quello che ho fatto in questa serie comunque nella prossima puntata andiamo a fare i pipe di smeraldo vediamo un po' se ce ne abbiamo qualcuno oh quasi 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 sono uno zozzo sono novitissimo sono un porco perché non aggiornate la voce non ve la spoiler magari vi faccio un blocco mod spotlight o l'avrete già visto comunque sto rosicando io sono iscriviti al canale novitissimo